Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La famosa showgirl Michelle Anziker ha fatto parlare di sé nel 2022 per la sua relazione con il medico-chirurgo Giovanni Angiolini, ex concorrente del Grande Fratello. Nonostante la fine della loro storia d'amore, i due sembrano essere rimasti in ottimi rapporti. In una recente intervista, Angiolini ha rivelato dettagli inaspettati sulla loro relazione. Il medico ha descritto la loro storia come intensa e divertente, sottolineando che entrambi stavano affrontando un periodo emotivamente difficile. La separazione è stata motivata dalle differenze nelle loro vite e Angiolini ha sottolineato che è avvenuta in modo tranquillo, mantenendo comunque un rapporto di amicizia con Michelle. Durante l'intervista è emerso che i due si sono conosciuti in un contesto lavorativo e la domanda su eventuali interventi estetici sul volto della showgirl è stata posta. Angiolini ha smentito categoricamente, elogiando la bellezza naturale di Michelle e la sua disciplina nel mantenere la forma fisica. Riguardo alla sua vita sentimentale attuale, Angiolini ha ammesso di non essere più completamente single, ma di essere in una fase di esplorazione o forse incasinamento. Resta un alone di mistero su chi sia la nuova fiamma del medico, ma non si esclude che presto possano emergere ulteriori dettagli. Per quanto riguarda Michelle, al momento sembra essere single, ma l'amore potrebbe sempre essere dietro l'angolo. La storia tra la showgirl e il medico chirurgo ha tenuto banco sui media, confermando che il gossip sulle vite dei personaggi famosi...